Dottore Cani, come Partito Democratico quale valutazione, quale giudizio dà relativamente alla nuova rete ospedaliera di cui ne traerà vantaggio anche il nostro ospedale? Io ne do un giudizio molto positivo, anche perché come Partito Democratico noi abbiamo molto seguito questa vicenda. E' ovvio che in questa nuova rete ospedaliera bisogna ringraziare prima di tutto il Dottore Termini, il Dottore Ficarra che è l'attuale dirigente provinciale e il Dottore Cassara. Perché su questa nuova rete ospedaliera, specialmente per quanto riguarda Canichetti, ci hanno lavorato molto. Perché? Perché noi partiamo da una vecchia dotazione organica. Che dava a Licata, ma questo lo dico senza polemica perché è giusto che due ospedali collaborino, dava a Licata una dotazione organica di 190 posti letto. Con la venuta del Dottore Termini questa nuova rete ospedaliera per quanto riguarda sempre Canichetti e Licata è stata rimodulata. Tant'è vero che noi siamo passati, noi abbiamo in acuto 106 posti letto, mentre Licata ne ha 96, in posti acuto noi ne abbiamo 16 e 32 Licata. Che cosa significa in Zoldone? In Zoldone è che questi due ospedali diventano complementari. Gli ospedali riuniti diventano complementari perché la parte diciamo più medica da questo punto di vista viene a Canichetti, compreso la battaglia sulla rianimazione perché l'abbiamo vinta, nel senso che ci sono 4 posti letto per la rianimazione e si aprirà perché la rianimazione va dietro al punto nascita e noi abbiamo il punto nascita a Canichetti. Canichetti dicevo diventa l'ospedale più medico se si può usare questo termine, oppure mentre Licata diventa un ospedale più di servizi, di lunga digenza, di posti acuto. Questo è il risultato della battaglia, devo dire anche fatta dalla battaglia ora vera è chi andrà a fare il direttore dei due rispettivi ospedali perché lì diventa un punto cruciale dell'organizzazione dei due ospedali.